Qualche stima comincia ad essere fatta anche da parte ticinese. Proprio ieri nella tavola rotonda la crisi e le opportunità che si è tenuta nel corso del congresso del PPD, il direttore della PKB, PrivatBank e docente universitario Luca Soncini ha detto di valutare in circa 50 miliardi di franchi i capitali che verranno scudati e che effettivamente lasceranno il territorio ticinese. Ricordiamo che la piazza finanziaria ticinese gestisce un patrimonio di circa 400 miliardi di franchi di cui più della metà provenienti dall'Italia. Rispetto a qualche giorno fa, i rappresentanti del mondo bancario hanno un profilo più basso, preferiscono concentrare i propri sforzi per informare i clienti più che in un batage mediatico che potrebbe rivelarsi controproducente. Ma sta di fatto che Soncini stima il fatturato perso a causa dello scudo attorno ai 600 milioni di franchi. In pratica si tratta di commissioni che verrebbero a mancare tra i 700 e i 1000 i posti di lavoro a rischio nelle banche ai quali si aggiungerebbe un centenario di impieghi nelle fiduciarie finanziarie. Tra i 70 istituti della piazza finanziaria ticinese, qualche banca, pensiamo alle più piccole, potrebbe chiudere a causa della perdita di attrattività delle condizioni generali. Importante inoltre la perdita in termini di gettito fiscale e di quanto emerso nella tavola rotonda del PPD ha riferito oggi anche il Corriere della Sera che parla pure della difficile situazione che, come la Svizzera, sta vivendo San Marino. In attesa dell'esito dell'incontro tra Governo e Consiglio federale che esiterà il 19 novembre sulla strategia da attuare con l'Italia, anche oltre confine ci si interroga sulla legittimità dello scudo fiscale. Secondo alcuni aeroparlamentari dell'Italia dei Valori, che hanno inoltrato una denuncia alla Commissione UE, lo scudo fiscale sarebbe incompatibile con le leggi europee che regolano l'imposta su valore aggiunto. Questo perché permetterebbe l'evasione dell'IVA attraverso una sanatoria non autorizzata dall'UE. Una risposta da parte degli organi comunitari è attesa a breve. Vi è da dire che il tema è molto complesso. C'è chi sostiene che l'IVA sia scudabile e chi, secondo le nuove normative, no. Vi è poi il tema della libera circolazione dei capitali. Ci sarebbe insomma una disparità di trattamento nei confronti della Svizzera rispetto ad altri paesi, un aspetto che l'Associazione Bancaria Ticinese ha già sottolineato a Berna. Secondo l'articolo 56 del Trattato sulla Comunità Europea, la libera circolazione dei capitali ha effetto tanto e nello stesso modo nei confronti dei paesi membri dell'Unione Europea che nei confronti dei paesi terzi. Il Lussemburgo ha una legislazione in materia di riservatezza e di confidenzialità di dati bancari pressoché identica con la Svizzera. Il Lussemburgo viene trattato in un modo, la Svizzera in un altro. Proprio oggi il Gran Consigliere leghista Lorenzo Quadri ha inoltrato un'interrogazione parlamentare nella quale chiede al governo cantonale di percorrere anche la via della denuncia agli organismi internazionali, tutte opzioni che però difficilmente si tramuteranno in un risultato concreto a breve. Questo perché quando giuggeranno risposte ufficiali, chi intendeva approfittare della sanatoria per riportare i propri capitali in Italia l'avrà già fatto. Grazie a tutti.